La Nocedina è in silenzio stampa La Nocedina è in silenzio stampa che durerà per tempi brevi, visto che in settimana il Presidente Maiorino terrà una conferenza stampa nella quale farà un riassunto della stagione che si è appena conclusa e ovviamente parlerà di futuro della prossima stagione. A me non resta che ringraziare tutti i tifosi, soprattutto quelli che hanno seguito la Nocedina in tutte le trasferte e in queste gare qui ad Angri. A proposito un ringraziamento va anche a tutto lo staff dello United d'Angri che ci ha accolto e ci ha permesso di allenarci e di costruire la nostra salvezza su questo campo, perché guardando i numeri effettivamente la salvezza di Nocedina se l'è costruita su questo campo. Un ringraziamento va ovviamente ai calciatori, allo staff tecnico e a tutti coloro i quali hanno contribuito a quello che ci sentiamo dire, è quasi un miracolo. Grazie anche alla stampa, io l'ho già fatto su Facebook, lo voglio fare anche in via ufficiale qui, perché a parte qualche alterco inevitabile abbiamo davvero remato tutti dalla stessa parte e quindi abbiamo tutti raggiunto un obiettivo che all'inizio probabilmente neanche i più ottimisti pensavano si potesse raggiungere. Grazie a tutti.